Presidente, la fondazione è sempre in prima linea per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio. Direi proprio che l'esempio, lo stimolo che ha dato l'intervento di Pegazzano della Chiesa di San Michele sarà la base del bando che faremo in tarda primavera per la selezione di nuovi interventi di restauro perché crediamo che sia necessario intervenire su luoghi, su monumenti, dei quali la comunità sente un senso di appartenenza. Qual è il senso del recupero di San Michele Arcangelo per la comunità? La comunità attende molto il recupero di questa chiesa, anche se ormai da quasi 60 anni utilizza quella che viene chiamata la Chiesa Nuova, però sente ancora la storia familiare di tutte le persone che qua si sono sposate, che hanno fatto il battesimo, la prima comunione e che hanno vissuto momenti molto importanti in questa chiesa. A questo livello è stato bello, attraverso gli scavi che sono stati fatti, riscoprire non solo le tracce dell'antica chiesa ma anche le tracce dell'altare dell'antica chiesa dove i pegazzanesi hanno cominciato a pregare già sei secoli fa quindi è stata come una conferma di un luogo di preghiera e di tutto quello che ha caratterizzato la vita di fede di questa zona di spezia. Professoressa, in cosa è consistito il progetto effettuato dall'Università su San Michele Arcangelo in Pegazzano? Il progetto è costituito nello studio storico e nello scavo archeologico di questa chiesa che gli spezzini conoscono solo in parte ma che è importante in quanto testimone dell'attività di una comunità che certamente era attiva nel 300, forse anche prima, chiaramente ulteriori indagini dovrebbero essere fatte per capire quanto prima ma nel 300 sicuramente qui a Pegazzano c'era una comunità vitale anche abbastanza ricca in grado di costruire una chiesa di discrete dimensioni. Gli scavi sono stati molto importanti perché ci hanno consentito nei due saggi di individuare le trasformazioni della chiesa in epoca moderna ma soprattutto nel periodo anteriore a questa di trovare le tracce della chiesa trecentesca con tutte le sue fasi d'uso e quindi innanzitutto di ricostruire un po' meglio la sua architettura, le sue rifiniture, qual era la sua connotazione dal punto di vista cultuale ma anche economico-sociale. Abbiamo trovato tracce di una frequentazione già dall'epoca romanica, quindi dal 1100-1200, cosa che ci fa sperare e pensare che in altri luoghi all'interno della chiesa o in immediato esterno rispetto a quelli che abbiamo già indagati possano esserci tracce di una chiesa più antica.